Ecco, ma come nasce questa mostra? Questa mostra nasce da un incontro fatto con Carlo Caffi. Volevo fare una mostra a Bergamo, ma avevo difficoltà a trovare il posto. Mi dice, vieni a Clusona. Io ben volentieri l'ho accettato, perché sono legatissimo a questo paese, che poi è città. Ho accettato di fare questa mostra e ho iniziato a raccogliere i quadri. Ci siamo organizzati con l'assessore alla cultura, con il vice sindaco, e poi siamo arrivati con un'organizzazione strutturata da cinque persone. Ma come si presenta e come ci presenta anche le sue opere? Le mie opere in questa mostra sono opere che vanno dal 2003 ad oggi. Principalmente sono paesaggi e fiori, che sono i temi che io prediligo. Mi ha fatto piacere fare questa mostra anche a Clusona, perché ricorda anche l'amico Cesarino Petrogalli. E con i suoi quadri troviamo anche altre ispirazioni ad un artista bergamasco ben noto. Sì, io amo molto il pittore Raffaello Locatelli, che è amico di famiglia. Io andavo nel suo studio con il nipote, che era mio compagno in scuola, in Piazza Terzi, mi ricordo, c'era un abbaino, una specie di uno spazio con la luce sui quattro lati, e andavamo a vedere i quadri, copiavamo i colori, copiavamo i quadri, prendevamo ispirazione e dipingevamo insieme, sia a Bergamo che in Sicilia, luogo caro a noi quando andavamo in vacanza. Ecco, per certi versi la sua passione per l'arte deriva da un famoso artista bergamasco. Sicuramente sono stato influenzato dallo scultore Giacomo Manzù, che ha vissuto in tempo di guerra in casa della mia famiglia, famiglia Carrara, e viveva in via Chiodere. Mia zia ha imparato dallo scultore Manzù l'arte pittorica e anche l'arte plastica, e da bambino io guardavo mia zia dipingere ed ero affascinato dai colori, dai profumi, dai colori, e da lì ho iniziato poi il mio percorso personale. Il percorso personale che ha seguito gli impressionisti, ha seguito diversi maestri, tra cui Italo Chiodi, che insegna in Brera, ho seguito un corso in Brera di cromatologia, essendo molto appassionato al colore, e poi mi trovo con amici a dipingere, ci troviamo in una stanza a casa mia, ci troviamo a dipingere spesso, facciamo mostre, organizziamo incontri con altre persone, e c'è uno scambio culturale molto interessante e piacevole. Caffi, innanzitutto questa mostra è intitolata Puro. Puro come l'animo di Fabio, di Fabio Missale, puro come il colore che usa, puro come lo è sempre stato, fin dai tempi in cui aveva aperto lo studio a Clusone, e si dedicava sia all'attività professionale, ma anche a un sacco di altre cose. Una di queste era stata partecipare, evidentemente a titolo gratuito come tutti quanti, a quella che al tempo era considerata la commissione più importante, la commissione edilizia, per cui da quasi giovane avvocato, era sempre presente per dare il suo apporto di professionista a quell'organo collegiale molto importante. Ecco, la purezza di Fabio stava anche nel fatto di riuscire a comunicare in pochi secondi, o a stimolare in pochi secondi, ad un'azione positiva con ricadute, ripeto, importanti per tutte. Averlo riportato a Clusone oggi mi dà grande soddisfazione, e aver sentito i commenti di chi ha visitato la sua mostra, e averli letti anche nel libro dei commenti scritti, mi conferma che questa scelta e l'apertura fatta dall'amministrazione comunale a un suo desiderio siano state vincenti. Il suo legame, tra l'altro, con la fondazione Ricerca e Matti Errare testimonia ancora di più che, oltre a tanti impegni, ha anche un impegno nel sociale che gli fa onore.